Musica Ciao a tutti ragazzi sono SamuelTras90 ed eccomi qua ragazzi ritornato come potete vedere non su Call of Duty per la prima volta Vabbè per quanto riguarda me oggi sono su Payday 2 ragazzi un gioco che parla di rapine Vabbè e prima di tutto volevo salutarvi MeandrusChip che è qui con me perchè ha già un po' più di esperienza in questo gioco Come potete vedere lui è a livello 48 io invece sono solamente a livello 12 Che poi sinceramente ci ha giocato per i primi 10 livelli mio fratello e ora ci sto giocando io Però alla fine i tasti sono quelli di Call of Duty quindi non ho problemi Tranne per abbassarsi Sì a parte quello per abbassarsi Che cos'è qua dentro? Qua dentro è il camion della macelleria dove c'è la cocaina Praticamente devi prendere un bottone e allora dobbiamo resistere Ok quindi lo prendiamo ora? Sì 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 prendiamoli e dobbiamo portarli al sicuro perchè adesso si verrà il pendidio addosso Ok Oddio dobbiamo sparare Oddio ci diamo i poliziotti Vai vai ammazzano più che puoi e portano i bottoni là sopra Dov'è là sopra? Ah dove ho buttato il primo Ma dietro? Sopra le scale? Allora qua 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 dentro che almeno siamo un po' barricati finchè non arriva l'elicottero Com'è che si butta allo? Ah con questo si Ne prendo altri? Ce ne sono? Ce n'è un altro? Sì tutti tutti In questo gioco sono anche bastardi poliziotti che te li possono portare via Se poi si vanno a pippare loro Vai io te li butto vicino e tu li metti là sopra Ok ok Sopra così Vediamo questi Sacchi di cocaina Ne mettiamo là Perché metto le munizioni? Spoglio sempre tasto Oddio Eh vabbè ci vuole un po' d'abitudine I tasti sono completamente diversi da COD Eh sì ci sono delle funzioni diverse Devo prendere queste cose Con Rabbin Sento che c'è un cecchino Lo prendo E l'ho preso Eh perché poi ci sono stupidi cecchini in questo gioco Stanno alzati E i primi non scrofano Non scrofano Ah 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 stiamo scrofando Stiamo scrofando Oh non prende sta pistona Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare Il mezzo E dobbiamo metterci i borsoni dentro E poi dobbiamo scappare Sento che a un certo punto di stanno Non è arrivato da tutte le parti Sto entrando qualcuno nella partita Dunque è un gioco abbastanza bello Cioè è simile alla fine a COD Vabbè a parte per il fatto che su COD non puoi mettere sacche di munizioni Che meriti Eh vabbè Oltre quello Però alla fine diciamo Come si spara Alla fine è simile E' bello che tipo puoi sbloccare tante cose Gli accessori su Vabbè Come anche su COD Sì Gli accessori è un metodo diverso Alla fine di ogni missione Ci sono tre carte da scegliere Dove puoi trovare munizioni Dove puoi trovare modifiche dell'arma Dell'arma Soldi aggiuntivi O anche accessori per le maschere Eh sì Tipo E' bello perché puoi mettere le maschere Ah cioè ma è la maschera L'ho messa o no? Sì hai quella di battle Del personaggio Sì Bello che tipo ci siano le maschere Le abilità Alla fine è boh Se qualcuno di voi tipo l'ha provato E' simile come Cosa A Far Cry Perché ci sono tipo le abilità Che cose qui Non so se tu l'hai provato Eh no Non l'ho provato Però è sì Se uscirà un nuovo capitolo Me lo prenderò però Andiamo No no Ecco Cerchiamo di capire dove è No no è dall'altra parte Perfetto Per andare dall'altra parte Vieni qua Dobbiamo portare dall'altra parte i borsoni Noo ti prego no Vabbè dai dai Avvicino avvicino Devevo portare Se ti vorrei soli dall'altra parte Vai tu buttameli giù E io li porto A metà strada Ma la sopra Dobbiamo portarli? No la sopra dove l'ho messo io Più indietro Vai buttalo dove l'ho buttato io Che così almeno Mettiamo tu sui guanti Ok Aspetta Andiamo là Ah perfetto Oddio no Vai vai a prendere l'ultimo Lo sta prendendo quello Vabbè Portiamoli al sicuro Aia Cocaine vai Sarà una stracca cocaine Centomila Sì Sì Non so anche Al tipo su Come? Viene a portare anche gli altri borsoni Devi buttare qua sotto che c'è il camion Ma da dove si passa? Qua qua Sono delle scale Ah quindi lo prendo il borsone? Un borsone? Sì sì Ok Come on Andiamo Ciccetto di merda Muori Ma io vado a prenderne un altro Perché che si fa? Si buttano laggiù? Sì sì Sotto dove c'è un furbone Tu buttali e Tu li vende da solo Ok Fatto Oh ma centomila per ognuno Mamma mia Sì Però non ce li daranno Alla fine di questa discussione Ma alla prossima Eh sì Ma perché sono due Dobbiamo fare due missioni Due giorni Due giorni di missioni Ok Quindi è questa Ma è un'altra missione Perfetto Andiamo Ne porto un'altra Ci diamo qualcuno C'è già anche il mento per la fuga Dio mi stanno uccidendo Vai Ehm E vedi quel punto esclamativo in mezzo alla strada Aspetta Quale? Questa qua dove sto io E la man No Stanno ucciso Stanno ucciso Sì sì Dobbiamo scusare le ricostro Dio Perché è dirigente poi Si ferma con la macchina dove c'è l'intera politica Oh Oh Spara No mi sono finito le munizioni Sto per morire E chi quando ci Hamburg Mi viene qua da un medica Come si prende? Ce n'è uno dietro Ma bellissimo perchè quando tutti ci vissiamo con il fila pompa vedi che fanno certi salti Perché stai andando da lì? L'elicottero di solito viene o qua oppure dall'altra parte Vabbè voi rimanete là Mi vado ad uccidere qualche poliziotto Ma perchè non ci arriva? Cosa è l'executioner che poi assomiglia pure No 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 Non so se è proprio un'armacca Oh Basta Non ha finito gravemente Spara più Mi sono finite le munizioni comunque Eh lo so anche a me C'ho tre colpi Spara che rimaniamo vivi Per rubare le assi Ah si Rubiamo le assi Non perde Non perde Non perde le Le mettiamo là sotto Oddio mi stai uccidendo No sono morto Move me I'm reloading I'm reloading I'm reloading Scusa che ho il zero colpi Oh Aiuto Detenzione tra 15 secondi Thank you very much Match Not much Match Thanks man Oh Che cammina Madonna è un cazzo di helicottero quanto difficile da arrivare Aspetta Ah che l'avevi chiuso le munizioni Eh si Oddio Oh 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 Questi Ma non Sono così Tom 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 Fierici Fierici Senti dov'è l'helicottero? Oddio un uccello Sento un rumore dell'helicottero Eccolo Ok dobbiamo andare sopra Ora è possibile fuggire Come on Ma ora c'è 120 gol Non andiamo Ok Let's go Fatto Riffa giornaliera 310.000 Dollari Vabbè così Facciamo i soldi Vediamo se mi alza di livello Che cos'è? Non si è visto boh No è iniziato il prossimo giorno è iniziato Ah ok Praticamente adesso ci porta in un molo Dove dobbiamo portare la cocaina in una barca Perfetto E poi ce ne andiamo in giamaica Facciamo così Esatto Aspetta sblocco il kit medico, le munizioni, il check kit No Risorse, fucile AK Preparazione del team Mamma mia Dove? Dove? Facca di munizioni Ah medic Sta bruciando la mano Poi io E' più che ci mette tre anni per entrare Perché quello lì non entra? Chi è entrato vai Secondo il giorno Ora fortuna Adesso dobbiamo andare a prendere i portoni La in culo al mondo E dobbiamo portarli Un po' dentro questo molo Ok mi fai tu strada Ok Quanti persone? Oh ma questi Stanno rubando La cocaina Non ve la do la cocaina I tuoi Ma quelli che però mamma ce la potrebbe rotare eh Ahah Ma che staMan a fa? Qui però una cosa brutta di questa mission è che la barca può portare solamente quattro portoni Quindi come facciamo? Eh, possiamo aspettare due volte che torni Ma dov'è che li dobbiamo portare di preciso? Dentro quella struttura Ah, qua dentro Non sotto la turre però Qua dentro, qua dentro Ok Ok Vendiamone Siamo qua dentro Tu dove arriva la barca? Qua? Si, lo dice a un certo punto Quindi solo il nuovo pezzo o il 9 Ma se tipo io mi volessi buttare? Guarda, butta un borsone nell'acqua che ti da un obiettivo Ok Lol Nooo Obiettivo sbloccare l'intelligenza con le branche Vabbè, ma uno che lo fa tipo è stupido Abbiamo lasciato un borsone là Vabbè, le fai Sta pensato Abbiamo lasciato un borsone là Darti una sistemata E' inutile andarla a prendere Moriamo solamente Ok Questi Questi Perchè le porta qua i borsoni? E' che è l'intelligenza di un vicino E' che è l'intelligenza di un vicino Boh, li porta dall'altra parte La cappone Andiamo Speriamo Speriamo Senti, vengo dall'altra parte Come? Vengo dall'altra parte Attenso Ma corre come un handicappato il mio personaggio Vi fa Ahah Pecca Ned glitch Pound, pound Beh comunque dovete sapere che Meandruschip Alla fine gioca anche Su COD con me Gioca competitive Diciamo un po' Ci mettiamo a fare qualche Scream insieme Qualche partita amichevolina Vabbè, qualche partita Cattissimo O magari qualche volta Facciamo anche un video su COD Insieme Vabbè Vabbè Ok Oh Dimissioni Ma banca Perché devi portare solamente 4 fortune Eh appunto Che caro è proprio un meno male Ok C'aveva ragione quello allora Dobbiamo portarla lì No ma non me lo dire Ahahah Senti solamente 4 Ne possiamo buttare con l'ultimo Ecco Dobbiamo aspettarla che ci torri Guarda oddio Oddio Cos'è la scia dell'arte la barca Che cazzo E' proprio realistica A livelli estremi Se poi a un certo punto vedi che da lontano scompare completamente Vedi una scintilla scompare Sì ma poi Cioè tipo La scia che lascia la barca Poi era proprio E' stata statica che seguiva la barca Vabbè C'è solo un gioco che costa 40 euro E' bello dai Sì sì vabbè Ma alla fine E' un gioco che non E' un gioco che non punta sulla Oddio Oh ma Che cazzo Perché stava sparando a vuoto Sparla di copro io vai Zero colpi sulla cappone Oh ma non sta nato Che cazzo Aia 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 Da dietro Da dietro Da dietro Da dietro Scappa forest No No Aiuto no Non voglio morire Eh sono tutti qui No ti prego Non voglio morire Vai grazie bro Vai bro grazie Mamma mia Sto stimo Sì un elicottero Ce ne dobbiamo andare Sucidato per morire Ce ne dobbiamo andare Con l'elicottero Eh se puoi qualche soldo in più Possiamo anche aspettare Eh allora rimaniamo un po' dai Sì Ma questo è morto Do una sistemata Coprimi coprimi ti prego Coprimi 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 No no perché se ne sta andando Forse se ne vogliono andare perché forse è un po' troppo rischioso Eh loro tipo Vabbè sono livelli bassi ma li piace Che sei a livello 48 ci credo non mori mai Io faccio missioni Io faccio missioni C'è proprio la data di spegnare C'è tipo una missione che si chiama big oil dove devi trovare un componente di fusione nucleare che pesa 100 kg Sì E se ne sono 24 tu devi trovare uno di quei 24 che sia quello funzionante E lo devi portare dall'altra parte No vabbè impossibile Cioè Beh comunque ragazzi se tipo Vi piace sto gioco magari ci posso fare un altro video facciamo una missione un po' più difficile Anche però se questo è stata Anche questo è stato un po' difficile Per me Vai portiamo giù i portoni e ce ne andiamo giù a quel paese Vai No oh no Vai 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 Vabbè ce ne andiamo No 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 Ti stanno uccidendo aiuto Oddio Ok andiamo Avendo fatto in modo che tu non puoi nemmeno giudere più stato di mare Ma dai ma questo muore Guarda dove muore Guarda dove muore Guarda dove muore Questo va Boh Dai dai vieni qua Andiamo Ma quello che fa? Perché prende le munizioni? Ma lascialo morire Ma io lo lascio là Sì io lo lascio là Vabbè lo sto aiutando l'alto Ma perché? Guarda andiamo Perché prende le munizioni se ce le dobbiamo scappare Oh ma che ritardaro Vieni Uppaloompa vieni Uppaloompa Ok bro Oddio cos'è bottino 2 milioni C'è anche il bonus banda viva adesso Guarda guarda Oh Bonus banda viva 1500 1200 Sogno vedere tutti quei soldi nella vita reale Eh magari Vediamo Sono le carte Vediamo che prendo io Cos'è? Perfetto Ho tenuto la modifica sull'arma Guardavano con slitta Sulla pistola mitragliatrice para Sight Come? Parasite Parasite Sì Vabbè quindi è finita questa missione Io Io spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi Comunque il gioco ci è stato offerto da Halifax Che vorrei ringraziare ragazzi E vorrei anche dire che però Vabbè Lo sapete già il vincitore del contest Vincerà una copia di PD2 Non quello con cui sto giocando ora Ma ne ho avute più di una copia E poi spedirò al vincitore del Appunto del contest E niente ragazzi Questo video è finito Qui è tutto da Da Savi e da me Andrus Ciao Bella Bella ragazzi